Ciao, questo è il primo video della serie Finding Fiore. Questa serie sarà incentrata su Fiore dei Liberi, uno dei principali maestri di scherma di tutti i tempi. Di lui ci sono arrivati dei trattati direttamente dal 1400 ed è il primo e più antico trattato italiano di scherma. Ho letto tanti manoscritti medievali e mi sono sempre interessato di spade e scherma antica. Il trattato di Fiore dei Liberi è secondo me uno degli ultimi ancora aderenti a quello che è l'arte della guerra. Quindi non una scherma duellistica, non una scherma sportiva, ma bensì la vera arte della guerra. Fiore ci dà un regolamento completo per sopravvivere in battaglia. Non solo, ci sono tantissime piccole tecniche che a me fanno letteralmente impazzire. Basti solamente pensare che credo che questo sia veramente l'unico manuale di scherma con all'interno delle tecniche da seduto. Palesemente una rissa da bar o un'aggressione con coltello a una persona seduta. Ci sono intere scuole di scherma che sono nate sui suoi trattati e se ne parla tantissimo. Il problema è che più se ne parla in maniera amatoriale e più ci si allontana da quelli che sono i manoscritti e le fonti storiche. Quindi io tenterò di guidarti il più vicino possibile a quello che è ciò che lui ci ha lasciato senza tentare di dare interpretazioni. Io non sono un maestro di scherma, quindi non tenterò di dirti Ah no, guarda, la tecnica non si fa con la mano così, ma si fa con la mano cosà. Io mi limiterò a dirti sul manoscritto c'è scritto questo, l'immagine è questa, poi resterà a te a giudicare. In questa serie io terrò una linea molto rigida. Prenderò per vero solamente le fonti storiche che ci arrivano dal passato. Parliamo un secondo di Fiore dei Liberi e della sua figura. Sappiamo ben poco, le uniche tracce manoscritte che ho trovato fino adesso sono quelle dei suoi stessi libri, in cui c'è una grossa introduzione di cui lui parla di se stesso e dei suoi principali allievi. Di se stesso parla molto poco, ci dice soltanto che è nato a Premariacco, nel Friuli, è figlio di Benedetto, della nobile famiglia dei Liberi. Egli stesso ci ammette di essere un personaggio eclettico e che si è spostato in tutta Italia e anche in Germania, alla ricerca di nuovi maestri e nuove tecniche di scherma. E poi, in tarda età, riassumerle all'interno del suo libro, Il Fior di Battaglia. A noi sono arrivati quattro trattati conosciuti in questo momento. Dico conosciuti in questo momento perché l'ultimo è uscito fuori soltanto nel 2008, quindi pochi anni fa. Si tratta del Fior di Battaglia contenuto al Getty Museum di Los Angeles, Il Fior di Battaglia contenuto alla Morgan Library di New York, Il Florius de Arte Luctandi che si trova nella Biblioteca Nazionale di Francia, E il Manoscritto Pisani Dossi, che in realtà è andato perduto agli inizi del secolo e di cui adesso abbiamo una copia trascritta da Novati. Tenteremo di seguire questi quattro monoscritti e la loro storia, analizzarli nel dettaglio. Spero tu voglia seguirmi in questo percorso, anche perché avrò bisogno del tuo aiuto. Come dico spesso, molto probabilmente in qualche cantina polverosa o in qualche biblioteca dimenticata ci sono ancora delle pagine di un fior di battaglia perdute o, perché no, un altro monoscritto. Io spero di non essermi dilungato troppo e ti saluto. Un abbraccio e al prossimo video. Un abbraccio e al prossimo video